Mentre il presidente del Teramo comincia a conoscere direttamente la tifoseria organizzata del Diavolo, avendo fatto visita ieri sera al club Spartaco Piotto, una prassi giusta per chi deve apprendere, lo staff tecnico si muove su più direzioni. Assetto societario è rosa da mettere a disposizione di Bruno Tedino, che sarà certamente e costantemente informato sui movimenti del general manager Andrea Iaconi e di Sandro Federico. Ieri sera, attorno alle 21, mentre Iacini veniva ricevuto dal Piotto, Iaconi e Federico ratificavano la prima operazione in entrata. Si tratta del difensore centrale di 23 anni, Marco Soprano, ex Fermana. La stagione passata ha 31 presenze con Flavio Destro, quindi titolare del ruolo. Avvicenderà una bandiera che lascia Teramo dopo tanti anni, quella è Nebil Kaidi, che troverà allocazione molto probabilmente nella sua Ravenna. Soprano, nativo di Venezia, era approdato a fermo dal Fano, dove l'anno precedente aveva collezionato 13 presenze. Difensore centrale destro è ufficialmente il primo colpo di mercato del Teramo Calcio. Nuovo corso, la conferma della notizia, prima o poi arriverà, magari contestualmente all'ufficializzazione, una pura formalità, del neo-general manager, così lo ha classificato Iachini nella sua diretta Facebook, Andrea Iaconi, una icona del calcio abruzzese e non soltanto.